Si chiama Zoe Durant, è una giunga di donna straniera, la quale ha compiuto una scelta molto molto drastica relativa alla sua esistenza, relativa alla sua vita. Pensando infatti che questa donna con il marito vivono nella giunga, non da soli ovviamente, con due figlie, al di fuori di quella che è la civiltà odierna, contemporanea, nocivetta umana, senza preoccupazioni di sorta, tra cui il dover spendere i soldi per le bollette o altri tipi di spese. Vivo da sogno, così avrebbe liberato la donna in questione. Quasi tutto il cibo che vanno a consumare o meglio a mangiare viene coltivato direttamente nella fattoria e viene scambiato addirittura con chi abita nei paraggi, quindi vicino a loro. Si tratta di un baratto, va bene? Io do te, tu dai a me, il cosiddetto baratto di cui tanto si parlò nei primordi o meglio, nei tempi primordiali. Precisamente ha una vita veramente nuova, innovativa, una vita incredibile, ragazza a 28 anni d'età, il marito si chiama Brian, le figlie si chiama Zaina e Isla. Una quotidianità che viene letteralmente messa nei social network e la coppia non si vergogna, proprio no, a mostrarsi per come è, vivendo in aggiunta. Certo, è da sogno che si dichiara la coppia, ma non è oro tutto quel che lucida. Ovviamente ci sono anche i problemi che effettivamente parlando esistono e che coabitano in noi. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, il video termina qua, iscrivetevi, se vi va, commentate, una buona sera pure.